Cari fratelli e sorelle tanto amati dal Signore che vi accogli nel suo cuore Grazie a voi E pace da Dio Padre nostro e dal Signore nostro Gesù Cristo E buongiorno da parte di Don Umberto E diciamogli insieme Ci sono rodati i Sacri Cori di Gesù Di Maria Giuseppe, ora e sempre Ecco la parola di vita per oggi Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello Giovanni Battista non vuole ingannare nemmeno Erode Sa che le parole che sta pronunciando non sono gradite al Re Ma sono gradite, anzi, volute da Dio O Signore Gesù Cristo Ti preghiamo di aiutarci a fare sempre la tua santa volontà Anche quando ci chiede cose difficili Ed ora ascolta Gesù che parla al tuo cuore E ti dice Anima cara Questa è la tua forza Quella che è fondata sulla onnipotenza del tuo Dio Siete voi infatti che ha tirato il cielo Col vostro totale abbandono Pieno di fiducia Ed ora Accogli con fede la benedizione del Signore Nella Divina volontà Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù Benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione Quindi Per mezzo e intercessione del Beata Sempre Vergine Maria Madre e Regina della Divina volontà Ti benedico Per imprimere in te E ti ripieci sul gello delle tre divine persone Affinché tu risorga dal tuo decadimento Per vivere nel Divin volere Questa benedizione nel nome del Padre Comunichi imprimando la tua volontà Il sigillo della sua potenza Restituendo la sovrana di tutto Nel nome del Figlio Gesù Comunichi in prima nel tuo intelletto Il sigillo della sua sapienza Nel nome dello Spirito Santo Comunichi in prima Nella tua memoria Il sigillo del suo amore Ti sono restituite le forze dell'anima e del corpo Sii risanato ogni infermità spirituale e corporale E arricchita e abilita di ogni bene e virtù Sia la tua anima E per circondarti di difesa contro il demonio Il mondo e la carne Insieme con Gesù Ti benedico tutte le cose da Lui create Affinché tu le riceva tutte Benedete da Lui Ti benedico la luce L'aria L'acqua Il fuoco Il cibo Tutto, tutto Affinché tu resti come in avvisato e coperto Con queste benedizioni Insieme con Gesù Ti benedico il cuore La mente Gli occhi Le orecchie Il naso La bocca Le mani I piedi Il corpo E viscere Il respiro Il moto È tutto Ti benedico per aiutarti Ti benedico per difenderti Ti benedico per perdonarti Ti benedico per liberarti da il male Ti benedico per consolarti Ti benedico per farti il santo Ti benedico dunque nella divina volontà Nel nome del Padre Del Figlio E del Spirito Santo Amén Siano allodati i Sacri Guardi di Gesù Di Maria di Giuseppe Ora e sempre Siano allodati i Sacri Guardi di Gesù